Si sono vaccinati contro l'influenza anche loro il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi e il direttore generale dell'Asla Toscana Sud-Est Enrico Desideri, assieme ad alcuni magistrati e aretini, per lanciare un appello alla cittadinanza. Il nuovo virus, la chiamano variante Michigan, perché quest'anno viene dall'America e non dalla Cina o dall'India. Il virus AH1N1 è un virus importante, un virus che ci preoccupa. Sono attesi in Italia almeno 5 milioni di malati a causa di questo virus e sono attesi dai 14 ai 18 mila morti a causa di questo virus. Quindi vaccinarsi è una cosa importante per tutti e naturalmente più importante per le persone che hanno una certa età, per i cosiddetti anziani. Le influenze decimano gli uffici pubblici, mettono fuori uso funzionari e dipendenti. Già siamo un po' in crisi di personale, quindi mettono fuori uso dipendenti, personali, servizi. Quindi riteniamo estremamente importante, anzitutto, aderire a questo tipo di iniziativa come segnale. Egoisticamente, pensando all'interesse dell'ufficio, ci aggiungo anche questo aspetto. La campagna di vaccinazione anti-influenzale ha preso avvio ad inizio novembre e si concluderà a fine dicembre. La vaccinazione è offerta gratuitamente agli anziani sopra i 65 anni e ai tutti i cittadini appartenenti alle cosiddette categorie a rischio. Come tutti gli anni viene fatta dai medici e pediatri di famiglia. Mi arrivano notizie di una buona adesione, cosa che ci fa molto piacere, per cui spero che la campagna abbia successo, al fine di arrivare agli obiettivi previsti dal Ministero della Salute, e cioè almeno il 75% dei soggetti a rischio e delle persone che hanno 65 anni e più.